Navigatore su Uconnect. Se sei stanco di utilizzare il tuo smartphone come navigatore ogni volta che devi raggiungere una nuova destinazione, hai bisogno di un sistema di navigazione installato direttamente sulla tua auto. E cosa c'è di meglio che farlo sul tuo sistema Uconnect 7? Grazie alla nostra guida passo passo, sarai in grado di installare il navigatore sul tuo Uconnect 7 in pochissimo tempo e senza difficoltà. Dimentica gli ingolghi del traffico e le mappe cartacee ingombranti. Con il tuo nuovo navigatore integrato, potrai trovare la strada più veloce e raggiungere ogni destinazione senza problemi. Il navigatore integrato sul tuo Uconnect 7 offre una grafica 3D ad alta definizione, indicazioni vocali turn by turn e ti avvisa di eventuali autovelox lungo il percorso. Inoltre, potrai rimanere aggiornato sulle condizioni del traffico in tempo reale, il che ti consentirà di pianificare il tuo percorso in modo da evitare code e ritardi. Non solo il navigatore, ma il tuo Uconnect 7 ha molto da offrire. Il grande schermo touchscreen da 7 pollici ti consente di controllare il tuo sistema audio, il climatizzatore e molto altro ancora. La connettività Bluetooth simbolo di marchio registrato ti permette di fare chiamate in viva voce e di ascoltare la tua musica preferita senza doverti preoccupare di fili o connessioni complicate. Non farti intimidire dal processo di installazione del navigatore sul tuo Uconnect 7. Segui la nostra guida passo passo e in pochi minuti avrai accesso a tutte le funzioni avanzate che il tuo sistema di navigazione integrato ha da offrire. Non perdere tempo, segui il nostro video e goditi la tua esperienza di guida senza pensieri. Grazie per aver guardato questo video, se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi, da qui vi auguriamo una buona giornata.